Ci occupiamo di consulenza e previdenza con il responsabile private Mauro Benedetti della Banca di Cardito Cooperativo di Casa Algrasso e Sant'Albano Stura. Parliamo proprio di consulenza, se ne sente parlare sempre di più, ma che cos'è realmente? Allora io penso che siamo arrivati a un momento in cui il futuro di una banca dipende sempre di più dal futuro dei propri clienti, ovvero bisogna passare da una logica di prodotto e quindi non più pensare a vendere un prodotto e basta, ma cercare di capire quale può essere l'esigenza di un cliente durante tutto l'arco della sua vita. Quindi proprio accompagnare il cliente dalla sua nascita fino a quando va in pensione e quindi cercare di capire quali sono le sue esigenze e anche di aiutarlo a comprendere delle esigenze che magari lui in quel momento non ha ben presente o potrebbe sottovalutare, come è il caso ad esempio della previdenza complementare. Anche proprio questo, abbiamo accennato alla previdenza, che cos'è nel dettaglio e perché è così importante? Allora, tenete presente che la previdenza complementare a livello redditizio per la banca conta pochissimo, quindi è proprio un discorso di andare a spiegare al cliente che con il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo il rischio è poi un domani di trovarsi con delle pensioni non più all'altezza. Quindi qui stiamo investendo molto ed è un esempio di una banca che cerca di essere vicino al cliente anche facendogli capire delle esigenze che un domani potrebbero presentarsi e che farebbe male a sottovalutare. Ad esempio anche la polizia sanitaria è un altro discorso che stiamo affrontando. Qual è la vostra attività? Quella d'ufficio e come vi collocate sui mercati? Allora, in questo momento diciamo che la situazione è quanto mai delicata, in quanto i rendimenti obbligazionali sono scese in minimi, quindi per avere rendimento bisogna andare sui mercati azionari, i quali però sono anche molto pericolosi. Quindi noi da ormai 5 anni ci stiamo muovendo sui mercati con la selezione dei gestori più importanti. Noi non abbiamo un nostro gestore di riferimento, questo ci permette di andare sul mercato, andare a prendere quelli che secondo noi sono i gestori migliori e andarli a selezionare. Abbiamo fatto un lavoro molto particolare sui fondi flessibili, in modo che il gestore possa andare sull'azionario se lo ritiene opportuno o possa anche azzerare la componente azionaria se è il caso di difendersi.